Via del Sale è chiusa per 20 giorni. L'evoluzione del cantiere per la realizzazione della pista ciclopedonale ha portato a questa decisione peraltro già prevista a causa della complessità e dell'impatto dei lavori per garantire i massimi livelli di sicurezza. Fino al 25 aprile nel tratto di Via del Sale che va da Via Vecchia fino all'altezza del civico 48A nella zona commerciale potranno transitare solo i residenti, i lavoratori e i clienti delle attività. Viene chiuso invece l'arrestante tratto di Via del Sale fino a Via Portinari del Po. Il senso unico in entrata in Via del Sale resta in vigore con uscita da Via Vecchia. I tecnici comunali e la polizia locale in collaborazione con AEM si sono già attivati per posizionare adeguata segnaletica, gestire le criticità legate alla viabilità oltre che informare i commercianti e la cittadinanza dell'evoluzione avuta dal cantiere. Il tavolo tecnico e politico di monitoraggio assicura il Comune e continuerà a seguire con attenzione i lavori.